Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video di Diego, anfibio e rettile Oggi parliamo né anfibio né di rettile Guardi, questa meravigliosa cosa Questo è bicarbonato di sodio Un tubo con le bottiglie dentro Andiamo a metterci questo Aceto Da qua In teoria Un po' di colla vinilica Allora la colla vinilica la metto per Sigillare al 100% Un po' l'ho fatta seccare stanotte Questa si mette in più Almeno siamo sicuri che non esca Esco un secondo Andiamo a provare Vabbè E' aceto Io sapete che vado molto per l'aceto Le riprese non saranno le migliori Perché non sono con la Iopro O come la chiamo Io suisse più go Vado a vedere Minchia Si è chiusa in camera con la febbre Che non è vero Adesso mi è passata Non so cosa succederà Potrebbe esplodere tutto Potremmo fare una figura di me Non succedendo niente Si vede bene Assieme alla bottiglia Che merda Non ha fatto niente Guardate Ma cos'è sto schifo E' una mezzogna Sono deluso Sono un sacco deluso Non ha fatto niente Che frizza sono La fine degli esperimenti E' una mezzogna E' una mezzogna E' una mezzogna